Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete sono circondato da zaini Ortovox perché facciamo il confronto tra il Peak Light 32 e il Peak 35 insieme ne vediamo le differenze e soprattutto quale zaino più adatto a quello che dovete fare ma iniziamo col video e il primo punto che andiamo ad analizzare è lo schienale entrambi utilizzano la tecnologia Swisswall, la lana di Ortovox la differenza sta nel fatto che il Peak Light la utilizza solo in tre zone e quelle a maggior contatto tra lo schienale e la nostra schiena il Peak invece la utilizza su tutto lo schienale quindi abbiamo lo Swisswall praticamente sul 100% dello schienale qual è la grossa differenza? vabbè, sono tutte e due molto traspiranti perché comunque la lana che utilizzano è la stessa la differenza sta nel fatto che il Peak normale avendo uno schienale completamente imbottito fa sì che riuscirà a portare meglio un carico maggiore e parlando di carico passiamo anche alla fascia lombare la fascia lombare innanzitutto quella del Peak è più grossa rispetto a quella del Peak Light e questo fa sì complice allo schienale che col Peak possiamo portare dai 10 kg in su arrivando tranquillamente anche ai 15 col Peak Light invece stiamo dai 10 kg in giù quindi comunque una bella differenza soprattutto per quanto riguarda il carico trasportabile ma non solo perché la fascia lombare del Peak è saldata cioè è cucita nello zaino non si può togliere nel Peak Light invece si può togliere la fascia lombare e quindi diminuirne anche il peso a livello di spallacci vale la stessa regola ovvero il Peak Light ha uno spallaggio un pochino più minimal meno imbottito che ci permette di portare un carico più leggero il Peak invece ha uno spallaggio più imbottito anche di sezione un pochino più grossa per permetterci di portare un carico maggiore passando alla parte anteriore guardando i lati sono comunque molto simili la differenza sta soprattutto nel fatto che nel Peak Light abbiamo due cinghie che si possono aprire molto semplici da andare a tirare nel Peak invece abbiamo due cinghie che possiamo completamente aprire con una clip e utilizzando dei passanti possiamo andare a portare anche degli snowboard o delle ciaspole sulla parte anteriore quindi un pochino più completo il Peak e poi nell'altra parte di destra troviamo anche una piccola taschina per la borraccia o i ramponi mentre nel Peak Light non troviamo nessuna tasca esterna la differenza più grossa sta proprio nella parte posteriore che vediamo ovvero il Peak Light ha innanzitutto una parte posteriore composta semplicemente da una taschina superiore apribile con una zip molto piccola in cui ci sta dentro una cartina e basta il Peak invece ha la stessa identica taschina ma ha un'ulteriore tasca appositamente pensata per metterci dentro il kit d'emergenza a pala e sonda ma non solo perché comunque essendo anche bella grossa ci sta dentro anche qualcosina in più quindi diciamo che da questo punto di vista il Peak ha proprio una tasca in più diversa poi allo stesso modo possono portare due piccozze tutte e due o i bastoncini il casco sia nella parte posteriore che sopra il cappuccio l'altra differenza che notiamo è nell'apertura dello zaino allora sul Peak Light abbiamo un'apertura a forma di U tagliata diciamo di mezzaluna che arriva fino in cima a dove si apre lo zaino ma che non lo apre completamente quindi comunque rimane sempre un po' chiusa sul Peak invece l'apertura arriva proprio in cima e possiamo aprire completamente lo zaino come fosse una valigia può tornare comodo? sì, è soprattutto sul Peak che abbiamo pensato per portare più carico avendo un'apertura più grande riusciamo a prendere più facilmente gli oggetti all'interno si riesce anche su Peak Light però è un pelino più macchinoso un pochino più difficile soprattutto quando abbiamo tante cose messe una accanto all'altra passando a parlare del cappuccio allora entrambi hanno due tasche una esterna e una interna la differenza è che il Peak Light si può proprio togliere il cappuccio quindi possiamo prenderlo, toglierlo se non ci serve ed unirle ancora al peso sul Peak normale non si può togliere ma abbiamo la possibilità di alzarlo un pochino di un 5-6 cm nel caso in cui dovessimo portare ancora più materiale però il cappuccio in questo caso non si può togliere arriviamo a capire dove è meglio utilizzare il Peak Light e dove è il Peak secondo me la grossa differenza sta nel fatto se dobbiamo fare scialpinismo-alpinismo un giorno o due giorni scialpinismo vi consiglio più il Peak completo, quello normale perché ha proprio la tasca pensata anche per la pala e la sonda si possono mettere anche nei Peak Light ma si devono mettere dentro una volta che poi dobbiamo andare a prenderle, magari abbiamo sopra qualcosa non sono così facilmente accessibili soprattutto se dobbiamo veramente essere veloci e salvare qualcuno il Peak invece avendo la tasca apposta qui veramente in 4-4-8 siamo pronti a tirare fuori una persona sotto la neve quindi per lo scialpinismo un po' importante scialpinismo in cui soprattutto dobbiamo stare via anche diversi giorni meglio il Peak il Peak Light dovete fare dello scialpinismo molto veloce dello scialpinismo anche molto semplice e la grossa differenza poi sta nel fatto di quanto tempo dobbiamo stare via barra quanto peso dobbiamo portarci dietro se dobbiamo portarci dietro diverso peso quindi diciamo sopra i 10 kg io andrei col Peak ha una miglior struttura, ha un miglior schienale, una miglior fascia lombare e ci consente di poter portare quel peso se invece dobbiamo andare via molto veloci con poco materiale meglio il Peak Light possiamo alleggerirlo rispetto al chilo e due di peso normale quindi possono andare molto molto veloci e soprattutto è perfetto lui anche per l'alpinismo alpinismo secondo me io mi porterei dietro il Peak Light più che altro perché vedo il Peak come anche fin troppo eccessivo per l'alpinismo quindi per l'alpinismo almeno che non dovete farvi lo spaghetti tour e stare via 5 giorni compreso tutta roba per stare in infugio eccetera io vi consiglio più il Peak Light ecco detto ciao ragazzi arriviamo dunque alle conclusioni naturalmente cambia le feature cambia anche il prezzo Peak viene venduto a 240 euro sul sito ufficiale Ortovox 220 euro il Peak Light c'è una differenza di prezzo naturalmente perché hanno delle feature diverse a questo punto sta a voi in base a cosa dovete fare al tipo di attività che fate più spesso e soprattutto a quanti giorni o quanti chili vi dovete portare dietro decidere quale dei due preferire mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti una volta che avrete deciso quale prendete e perché che sono curioso anch'io nella speranza di essere stato il solente esotivo anche per questo video vi ringrazio che l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao